Lui, non so cosa sta vendendo il tipo, ma vende qualcosa Se non hai tutta l'agenda A1, sollecitare a sin costo la nostra soccursale Perché da 90 anni, in tutto lo che importa, anda e sta Se conoscete il trucco vero H24, la messa saffè mio saffè H25 qua Conoscevo delle cose aperte H24, questo è aperto H25 Per cui ce l'ho aperto un'ora in più di tutti gli altri Andando al bario anglaise c'è un punticello, c'è un parco, c'è un posto con le panchine all'ombra E questo è il fiume, il cattolo, che scende, la roia, non si sa qua Allora poi c'è gente che fa sport, ho già fame, solo a guardarlo sono stanco e ho fame Allora, in canale al bario anglaise, anglo, tu sai, c'è anche gente che fa già du sport E fosca a guardare, c'è già fame qua Qua, sa creusa l'esport, sa creusa Ieri al basket, io vi giusto che si è sortita là, io vi faccio un trucco, un demi-boeuf qua Ieri riuscendo a correre al basket, una fame c'avevo, mamma mia Un terreno sportivo con cavallo in fondo, non so bene se fanno parte del terreno oppure no, ma non credo c'è un recinto Quindi mi chiedo come fai per fare du sport, eccetera Allora, in effetti, c'è persone che fanno du sport Mi chiedo come fai a fare du sport con sto caldo, infatti non c'è nessuno che fa sport Ah, zona militare, ok, bomba, ok Niente, non ho detto niente, fanno quello che vogliono Se vogliono fare sport, se no non lo fanno, punto In realtà, no, è un presidio militare con l'accesso per tutti Se ha presidio un trucco militare, mi ha avuto l'accesso, ok, ok, non sei militare, ma che partì? Un partì militare e un partì pubblico, ok Se voi sono buoni, sono dei bei cavalli, io non ci capisco molto perché non sono un cavalcante Però sono belli i cavalli Sembrano belli, insomma, non sono di quelli che gli fai la rastra passando una candela dietro Sono buoni, non vuoi fare le cose che sono così, non vuoi fare una radiografia con una bugia che passa dall'altra cotta Sì, qua, tu, ah, se vieni, se vieni Però, ma io penso che queste pure le wifi gratuite, a me, io penso che sia una realtà Pensavo fosse il segno che c'è il wifi gratuito, ma no, non lo so cosa c'è in realtà Lui però, lui è, adesso andiamo a vedere chi è lui Chi è lui, vediamo se dobbiamo a vedere da qua senza attraversare la strada Questa immagine qui, se non immagine a qualcuno, non immagine a qualcuno o qualcosa Deve capire, al giugador Alley Rojo Alley Rojo Ah ah E' Italia, e' Italia E' la cupa Dunque, sto arrivando al bario Angolo, eh Oggi sono 30 anni arrivato al bario Angolo Voilà, la plaga, la plaga non esiste più e tutto ciò E la costa là va, voilà, cambia Non si parla, non è messa, cambia E la costa là sotto cambia, vedi che Cominciano delle rocce, delle cose Adesso andiamo a vedere cos'è, eh Allora, guarda che sei qua E voilà, al meglio di questo, c'è un stupo buddista Arrivi qua c'è un stupo buddista E dici, ma dai, ma si No, no, se fa un stupo buddista, ma è salire l'assemblea Non è un stupo buddista, ma ci assomiglia Andiamo a vedere Vedete che effettivamente Le bouillon saranno qua I dadi rendono, eh Compagnia Liebig, rendono bene i dadi Non so cosa sia, due tori, tre vacche Andiamo a vedere Andiamo a vedere Vedo davvero Estratto di carne, ah Ma è veramente una storia della Liebig qua Vero estratto di carne Wow È un monumento alla Liebig Esposizione internazionale di Parigi Esposizione internazionale di Parigi Esposizione internazionale di Parigi Il è anche scritto di francese E si è messo scritto di francese E si è messo scritto di francese però la concorrenza si fa sentire c'era Liebig e dopo un po' è arrivato anche Star non è vero giuro che non è vero